buonasera buonasera a tutti siamo qui in questa prima serata della terza edizione dello street food park qui ad agliana in questa splendida location che è il parco pertini in compagnia di nicole nesti buonasera nicole organizzatrice dell'associazione artigiano di questo evento tanto gradito nel giugno aglianese nicole ecco da te come prima domanda volevamo sapere da quando avete cominciato come vi è venuta quest'idea ormai siamo alla terza edizione è un buon successo sì tre anni fa e nella seconda edizione del giugno aglianese insomma diretto dall'associazione artigiano ci è venuto in mente di inserire questo evento e tanto in voga in questo periodo un po perché ero andata appunto ad un evento a firenze di street food e mi era piaciuto molto insomma come era stato organizzato quindi abbiamo cercato di riprodurlo qui e già dalla prima edizione insomma abbiamo visto che il successo era abbastanza importante e la porteremo avanti insomma finché diciamo che questa tipologia di eventi va di moda ecco giusto facendo un giro ho visto che quest'anno la scelta dei vari punti ristoro mi sembra molto oculata c'è stato un criterio particolare una ricerca specifica si cerchiamo sempre di non di dare una sorta di esclusiva di prodotto quindi non doppiare mai i singoli prodotti anche perché comunque siamo ad agliana quindi c'è molto pubblico ma il pubblico è quello di agliana insomma delle delle della piana non certo siamo a roma o firenze quindi cerchiamo di dare ad ogni chiosco insomma ad ogni track che viene la sua importanza e la sua esclusiva di prodotto comunque più o meno ci cerchiamo di farlo quest'anno in realtà ci è venuto abbastanza bene questa cosa veramente perché ho visto molti chioschini con prodotti esclusivi molto molto interessanti e anzi se volete anche domani sera e dopo l'altro sera potete venire dillo pure te allora domani sera dalle 19 come stasera invece domenica due appuntamenti dalle 12 e poi la cena quindi dalle 12 alle 24 sarà sempre aperto lo street food benissimo allora ne potremmo approfittare domenica anche nell'ora di pranzo chissà un'idea e quanti sono nicolo questi chioschini li chiamo così dai sono 14 e sono alcuni a ben locali ma molti sono da da insomma da fuori toscana dall'umbria dall'abruzzo e dall'emilia romagna e quindi insomma per noi è un successo ospitare persone insomma comunque track che non sono toscani e che vengono qua apposta quindi vengono ad agliana per stare al nostro evento benissimo a questo punto siamo alla conclusione di questa brevissima intervista e nicole ci ha concesso tutte le cose che deve fare stasera ringraziamo e sanitiamo nicole andiamo avanti con la serata e di nuovo grazie nicole grazie mille a voi buonasera ciao